Ciao ragazzi siamo in Q2Doors e siamo qua in Villa Filanda perché Francesco ci ha commissionato il lavoro di andare a pulire tutto il giardino dalle foglie tramite il pacchetto che trovate su MusicRacer. Adesso però smettete di fare il mixer e andate alla pane. Sì, sì. Sì, sì. Bene, il lavoro è stato fatto. Continuate a supportarci su MusicRacer. È stato un piacere. Grazie ragazzi, ottimo lavoro. Grazie a tutti.